Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'educazione. In questo tutorial vorrei presentarvi un'applicazione che ho trovato molto interessante, si tratta di un ambiente per creare e gestire discussioni, anche molto complicate e articolate, discussioni in cui i vari protagonisti, gli studenti, i docenti intervengono attraverso dei brevi video registrati con gli smartphone. Che cos'è Flipgrid quindi? Abbiamo detto un ambiente, un ambiente per dibattere, discutere, discussioni di gruppo a cui possono partecipare anche 20, 25, 30 persone, le quali intervengono attraverso dei video. Si tratta di un'applicazione freemium, la cui versione di base è sufficiente a creare e gestire una discussione, è piuttosto semplice da utilizzare, si tratta quindi di discussioni che si sviluppano online e quindi serve per integrare la didattica online, è interessante il fatto che è molto semplice da utilizzare come dicevo e quindi è adatto agli studenti dalle scuole di ogni ordine e grado. Sono supportati di smartphone, sia Android che iOS, con i due sistemi operativi. Lo smartphone è il protagonista, perlomeno dal lato studente, in quanto gli studenti registrano con il loro smartphone il loro intervento e lo inviano alla bacheca in cui sono contenuti tutti i video interventi in cui si articola la discussione. Come funziona a Flipgrid? Bene, abbiamo detto che si è facilitati nell'uso di questo ambiente dal fatto che è estremamente semplice ed è molto rapido da utilizzare, da consultare. Il funzionamento consiste nella creare una discussione, ogni discussione poi si articola in più interventi e a questo punto invitiamo a partecipare alla discussione gli studenti che interverranno con dei video interventi inviandoli tramite il loro smartphone. Qui si vedono da appunto bambini, questi sono i loro video interventi che naturalmente poi ciascuno può ascoltare e si può anche replicare agli interventi effettuati dagli altri compagni. A cosa può servire Flipgrid? Bene, sappiamo che l'utilizzo dell'online learning, quindi dell'apprendimento attraverso il web, ha degli aspetti positivi, dei vantaggi e degli svantaggi. Uno di questi svantaggi è che manca l'interazione dialogica a diretta che si ha in presenza quando si dibatte e si discute tutti quanti insieme in un determinato spazio fisico. Flipgrid viene incontro a questa esigenza di recuperare l'interazione dialogica e quindi è utile in tutte le forme di blended learning o didattica capovolta in cui si riscontra spesso una certa povertà comunicativa. Quindi questi punti principali, abbiamo un utile strumento per la didattica online che favorisce il dialogo, abbiamo la possibilità di gestire discussioni molto complesse e molto articolate su temi che possono essere disciplinari, interdisciplinari, di attualità, discussioni per esempio progettare una certa attività o per valutare una certa attività o per preparare un'attività, per esempio un viaggio di istruzione o un progetto che si sta proponendo. Uno spazio comunicativo quindi sempre disponibile in ogni momento e da ogni luogo via mobile. Vediamo adesso di registrarci a Flipgrid. Digitiamo Flipgrid e il primo risultato sarà quello desiderato ed ecco la pagina, l'home page di questa applicazione. Cliccando sulla icona in alto a destra accediamo a un menu, possiamo scaricare l'app se siamo studenti ma anche docenti oppure andare alla login. Noi non ci possiamo logare poiché non siamo registrati e quindi creiamo un account. Ecco qua ho compilato i vari campi, K12 significa istruzione superiore, la mia scuola, adesso selezionerò un'area disciplinare, mettiamo altro per storia e filosofia e clicchiamo sul pulsante azzurro. Vengo direttamente condotto in una pagina che costituisce la mia area di lavoro dove ho tutto il lavoro effettuato, quest'area è vuota perché mi sono appena registrato e grid sarebbe la discussione, non ce ne sono, vediamo di crearne una cliccando sul pulsante azzurro. Ecco la pagina che mi permetterà di configurare la mia discussione. Diamo un titolo alla discussione, clicchiamo prova, attiviamo questa casella di controllo per rendere visibile la discussione ai nostri utenti, attiviamo anche la casella per le notifiche via email, mi verrà avvisato ogni qual volta ci sarà un nuovo intervento video, posso anche inserire una password che gli utenti dovranno digitare per accedere alla discussione e posso abilitare gli utenti o disabilitarli per quanto riguarda la possibilità di condividere nei principali social network i vari interventi, le loro risposte. Posso anche far sì che la discussione sia moderata, in questo caso qualsiasi nuovo intervento verrà pubblicato solo quando il moderatore approverà la sua pubblicazione. Come ultima possibilità di personalizzazione della mia discussione posso consentire agli studenti di ricevere notifiche via mail quando ci saranno nuovi argomenti inseriti dentro la discussione o quando ci saranno risposte. Posso anche scegliere tra le immagini predisposte o scegliendo una mia immagine, posso anche scegliere uno sfondo, ecco qua scegliamo questo, a questo punto la mia discussione è creata. Se vedi bene, questa discussione è solo un contenitore vuoto, adesso dovrò inserire quelli che vengono chiamati topic, diciamo argomenti, sarà in relazione a ogni singolo argomento che si avvierà una discussione, quindi in realtà anche se la versione Frimi dà la possibilità di creare soltanto una discussione, in realtà io posso usarla per tutto un anno scolastico con una classe, magari chiamo la discussione terza D, una delle mie classi e poi inserisco i vari argomenti del programma di storia di filosofia che voglio discutere con gli studenti. Bene, vengo avvisato che la mia discussione è pronta, clicco sul pulsante blu e posso avviare la discussione inserendo un argomento, quindi questo, prova grid, è la mia discussione, posso anche con questo menu azioni rieditarla, condividerla, duplicarla o cancellarla, io adesso inserirò un argomento, devo a questo punto definire i parametri del mio argomento, per esempio lo posso chiamare storia argomento 1, posso con questa casella selezionare la durata dei video interventi degli studenti. Nella versione free non è possibile selezionare che 1 minuto e 30 secondi, nella versione classroom, vedremo poi le varie versioni, posso arrivare fino a 3 minuti, quindi si tratta di video interventi estremamente brevi, sintetici e densi. A questo punto posso io stesso registrare un video per avviare la discussione o caricarlo, oppure dare delle istruzioni in modalità testuale, per esempio, presentatevi agli altri partecipanti, qui abbiamo la data del topic, viene avviato l'argomento, ma può durare diversi giorni anche o settimane e finalmente posso con i pulsanti di controllo rendere visibile il topic agli studenti, richiedere che inseriscano la loro mail per ricevere delle notifiche. Ancora una caratteristica molto utile è questa, anche se è avviabile solo con l'account Flipgrid Classroom, cioè la possibilità di non solo rispondere, ma anche di replicare alle risposte. le ultime due caselle di controllo, i video likes, appunto la possibilità di mettere un like a un video e le visualizzazioni, il numero di visualizzazioni. A questo punto ho concluso e posso cliccare sul pulsante blu, crea l'argomento. Per condividere con i miei studenti questa discussione devo utilizzare questo link. Una volta che, per esempio, via mail o con Whatsapp avrò condiviso questo link, potranno accedere alla discussione. Il codice del topic è questo. A questo punto gli alunni, senza neanche bisogno di registrarsi, ma in possesso del codice, del link, possono inviare i loro video che registreranno con il loro smartphone. E qui compariranno le varie risposte che io potrò ordinare per nome, per data, per numero di like, eccetera, eccetera. Bene, vediamo adesso le varie possibilità. La versione Free mi consente di realizzare una sola discussione, ma ho la possibilità di farvi partecipare a un numero illimitato di studenti, di inserire un numero illimitato di topics, di argomenti e anche le risposte sono illimitate. Quindi, diciamo, si può anche sperimentare a lungo o per mesi con un'unica discussione coinvolgendo un'intera classe sui vari momenti dell'attività didattica, per esempio su varie unità di apprendimento, semplicemente giocando con i topic. Quindi, non so, storia argomento 1, filosofia argomento 1, storia argomento 2 e via dicendo. Altrimenti esiste la possibilità di, pagando 65 dollari, quindi circa 55-60 euro, avere un abbonamento per tutto l'anno, quindi piuttosto economico, ma naturalmente bisogna vedere se ne vale la pena, se lo strumento funziona, quindi è sempre meglio iniziare con la versione di base. In questo caso saranno illimitati anche i grids che potrò realizzare le discussioni. Ci sono delle funzionalità aggiuntive, per esempio è possibile non solo inviare una risposta, ma rispondere alle risposte dei compagni e quindi la discussione diviene più articolata e più complessa. È possibile incorporare, per esempio, in un sito, in un forum, la discussione, è possibile fornire un feedback, un'assistenza agli studenti, valutare il loro operato, è possibile scaricare le risposte e così esportare i dati, eccetera. Quindi è molto più completa la versione a pagamento. Bene, questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata.